Il prossimo brano è uno, forse è considerato, lo considero, uno dei brani più intimi dell'album. Perché? Perché è un brano che nasce con un'idea orchestrale e invece poi gli abbiamo voluto dare un'impronta un po' più, diciamo, più intima. L'abbiamo voluto un po' minimizzare a livello di strumenti e oltretutto, così poi come l'abbiamo arrangiato, alla fine quando sono entrato in studio l'ho inciso una volta tutto di getto. E io credo che se l'avessi apportato anche delle correzioni, diciamo, su quello che è quasi un live, perché è stata fatta one shot, una volta e basta, non renderebbe come effettivamente rende un brano cantato dall'inizio alla fine. Tante sono le strade, quegli incroci e le vie, tutte quelle domande, perse insieme agli addi. Tante sono le volte, di frasi usate poi, gettate al vento, solo per riprendersi, senza mai rincorrerci, dispersi tra la gente. Queste pagine, lasciate in bianco, avranno mal sapori, più dolce per noi. Aspettiamo gli sguardi indifferenti, di chi ama sottovoce e lo accettiamo, per non buttare da soli. Aspettiamo nuove promesse, di chi è visto partire e poi tornare, non facendosi del male, vivendo nel presente. Queste pagine, lasciate in bianco, avranno mai un sapore, più dolce per noi. Aspettiamo, di chi ama sottovoce e lo accettiamo, per non sentirci più soli. Aspettiamo nuove promesse, di chi è visto partire e poi tornare, non facendosi del male, vivendo nel presente. E se non finale, a che serve ormai rischiare? A che serve immaginare questo amore non reale? E tra le rose e le catene, quello che si vede è solo il tuo sguardo che ci allontana. E non sentirsi più vicino ancora, e non sentirti più vicino ancora. Più vicini ancora, più vicini di quelli che non hanno avuto mai una luna verità. Più vicini di chi ha perso le parole e rimangono in silenzio. Più vicini di come non saremo mai. Più vicini di ieri non saremo più. Più vicini di ieri non è più così, non è più così per noi. Grazie! Grazie!